E sulle periferie metropolitane che oggi si gioca il futuro dell'Europa. È arrivato il momento di andare oltre le parole. A cominciare da noi, a cominciare da me. Papi, ho conosciuto un ragazzo. Alessio? Dov'è casa di Alessio? Lo sto oggi. Dove scusa? No! Quello è un posto irrecuperabile. Ha confluto scambiare un centro benessere. Ho conosciuto anche la mamma. Io voglio sapere che vuole, tu fia dammi fio. Sono così orgogliosa delle mie agnese. Ma non devono essere felice anche noi. Mi ha detto che abita in un quartiere popolare, ma vivo. È un pochino più complessa di così. È appena tornato dalle vacanze, un paese esotico. Arabi, magrebini. Un crociolo di razzo. In New York. Rebibbia. Un crociolo di fida e una mignotta. Papi, domani Alessio mi ha invitato al mare da lui. Dove? A coccia di morto. Dove? A coccia di morto. Coccia del morto no! Con te che manca... Coccia del morto. Coccia del morto. Dice che ci porta lui a Caparbio, che una cifra meglio. Ma la spiaggia, andò sta? 2500 metri e arriviamo. Ma te sei completamente scemo, scusa? Là in quella macchia ne edificano le upupe. L'upupe? Ma vaffanculo, va. Qui vicino c'è un cinema. Di solito c'è un'ottima programmazione. Paride? Lasciamo perdersi i ragazzini. Tanto sta storia adora come un gatto un tangenziale. Oh, è finito? Ci sono i titoli di cota. Sei guardami i nomi? Sì. Ma sono armeni. Vuol dire rispettare chi lavora. Ma chi conosce? Sono armeni. Sì. 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 Sì.